Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, sulla base del rapporto redatto dalla polizia locale, ha firmato un'ordinanza con i poteri conferiti dalla legge in materia di sanità pubblica. Il provvedimento è stato successivamente notificato dai vigili urbani al direttore generale dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, Giuseppe Panella, e alla prefettura. Abbiamo deciso di firmare questa ordinanza dopo la relazione dei vigili urbani che ho mandato presso il pronto soccorso dell'ospedale pugliese. Da questa relazione si vincono alcuni disservizi. Abbiamo deciso di fare un'ordinanza perché il sindaco ha queste prerogative perché credo che la situazione sia veramente difficile all'interno del pronto soccorso. Quindi questa ordinanza prevede una serie di risoluzioni per quanto riguarda non definitive il pronto soccorso perché dà indicazioni chiare e nette che anche se c'è carenza di personale e anche a tempo determinato trasferendolo da altri reparti si possa sopperire a quelle che sono le inefficienze in questo momento del pronto soccorso. C'è prevista anche una guardia giurata per le questioni che sono avvenute anche durante queste settimane al pronto soccorso, di ribellione da parte di alcuni utenti e poi soprattutto la disponibilità della Mater Domini per i posti letto perché se ci sono dei posti letti disponibili non vede il motivo per cui devono essere trasferiti i nostri malati a Vibbo o a Crotono o alla Mezzia. E quindi questa ordinanza verrà firmata oggi e verrà protocollata direttamente dai vigi urbani presso le strutture ospedaliere.